Gli anziani abruzzesi e le loro abitudini alimentari rappresentano un patrimonio scientifico, culturale e antropologico da tramandare alle nuove generazioni afflitte da problematiche metaboliche legate all'eccesso calorico e al crescente diffondersi del cibo spazzatura. Da questa convinzione nasce lo studio Centenari, il cui obiettivo principale è quello di studiare le caratteristiche metaboliche, immunitarie e genetiche, nonché le abitudini alimentari e la valenza funzionale delle ricette tradizionali, con il fine ultimo di sviluppare linee guide finalizzate al benesse della popolazione attuale. Noi andremo a studiare le abitudini alimentari dei centenari abruzzesi, oltre che chiaramente gli aspetti legati al metabolismo, al sistema immunitario e anche all'aspetto genetico, però con un'ipotesi interessante che è quella legata al di uno, perdonate il mio accento romano, che è questa pratica in linea un po' con le recenti scoperte scientifiche di avere un periodo di digiuno proprio che va dalla sera, praticamente dal tramonto, alla mattina con questo pasto leggero e poi dopo un'attività fisica e successivamente questo pasto molto molto più abbondante, che garantisce un periodo di restrizione calorica e quasi digiuno per circa 10-12 ore, in linea con i ritmi circadiani e questo, se fosse vero, sarebbe veramente una scoperta importante perché ci permetterebbe di seguire questo pattern nutrizionale, questa abitudine alimentare, concedendoci anche il lusso di poter mangiare un po' di più, una tantum, insomma, e quindi dar modo al corpo di recuperare. Qual è la provincia abruzzese più longeva? Eh, guardi, qui non si possono fare delle classifiche, cioè la cosa interessante, secondo me, è che tutte e quattro le province presentano i paesi che hanno una percentuale molto alta di centenari. L'aspetto interessante è proprio la localizzazione geografica di questi paesi. Tutti, quasi tutti, si trovano nelle aree interne, a ridosso del Parco Nazionale del Gran Sasso, Monti da Laga, La Magliella, eccetera, eccetera. È proprio una zona che si sviluppa proprio intorno alle aree interne.